I carissimi fratelli e sorelle, alle 21 e 37, il nostro amatissimo Santo Padre Giovanni Paolo II è tornato alla Casa del Padre. Preghiamo per Lui. L'eterno riposo dona a Lui, oh Signore, e splenda a Lui la luce perpetua, riposi in pace. Amen. Grazie a tutti. Grazie a tutti.